bene una buona sera una buona serata e un bel ritrovati a tutti il tema di questa sera l'avete un po visto nel diciamo nella pubblicità che abbiamo fatto in questi in questi mesi e in quest'ultimo in quest'ultimo mese è il primo di una serie di sei ok trovate tutti i titoli riferimenti sul nostro sito ed era doveroso cominciare questa serie di incontri di formazione con quella che noi riteniamo al nostro interno come una base la base per poi iniziare a costruire tutto il resto e quindi per questo in questa serie vedremo insieme un po di storia vedremo insieme cerchiamo di mettere a fuoco quelli che sono gli obiettivi dell'ais apriremo della simbologia che c'è all'interno della nostra associazione e anche a come siamo organizzati per alcuni di voi queste cose possono essere cose già sentite o risentite o amanti vi siete iscritti perché avevate voglia magari di ripassare forse per alcuni sono anche cose cose nuove no e quindi spero che possano essere tutte 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 utili quindi condivido con voi una presentazione che servirà da riferimento per per questa per questa serata allora partiamo da un po di storia ok partiamo da lontano e quindi facciamo un po di storia a livello mondiale e e riuscite a vedere tutti il powerpoint sì fatemi un cenno con la testa se riuscite a vederlo ok bene ora partiamo con un po di storia partiamo a livello mondiale con la storia del movimento scout a livello avventista questa sera io ho messo in questa presentazione la storia del movimento scout diciamo ehm tradizionale storico che è quello che noi sappiamo essere stato fondato e costituito da bad and powell non perché non ci riguardi eh totalmente ma perché di quel di quella storia ci sono libri no che potete trovare nelle librerie scout ci sono eh in qualche modo ricerche che potete fare anche online e quindi se siete interessati a eh quella che è la storia dello scoutismo storico quello fondato da bad and powell potete eh trovare alcuni di questi libri ok inutile che vi racconti io una storia che comunque prenderei da quei libri lì quello che vi racconta invece quello che è la storia del movimento avventista a veramente pochi cenni perché questo ci aiuta a mettere un po' a fuoco e ehm e creare proprio la cornice anche del movimento e dell'associazione in cui noi adesso serviamo e siamo e siamo animatori quindi tutto comincia all'interno della chiesa avventista nel 1901 ok dove per la prima volta sì la conferenza generale quando trovate scritto GC è l'abbreviativo per conferenza generale cioè l'organizzazione della chiesa avventista a livello eh mondiale decide di iniziare a investire e organizzare le varie fasce giovanili e lo fa inizialmente come trovate scritto qui eh sotto la direzione del dipartimento della scuola del sabato quello che noi oggi chiamiamo MIB e viene dato questo nome il primo nome che viene dato è la società dei missionari dei missionari volontari ok quindi questa è una prima data da ricordare tutto per noi comincia nel 901 perché è importante ricordare eventualmente queste date perché quando poi andrete a eventualmente leggere un libro che parla dello scautismo storico di Baden Powell potete fare magari vari incroci ok tra queste date e quelle di di Baden Powell nel 1907 venne ho messe solo tre date perché poi io non sono un tipo che piace ricordare le date quindi vi ho messo solamente quelle che contano come si suol dire nel 1907 viene invece deciso sempre a livello mondiale dalla nostra organizzazione di invece costituire un dipartimento a sé stante e questo viene fatto durante un incontro che si terrà a Glan in Svizzera quindi viene fatto in Europa questo incontro per la chiesa mondiale e poi da lì in avanti iniziano esserci dei piccoli progetti a livello locale nelle varie realtà soprattutto negli Stati Uniti perché per chi magari non lo sapesse il movimento avventista nasce negli Stati Uniti quindi da lì che anche proprio il movimento scout avventista nasce mentre giusto per fare un accenno quello di Baden Powell non nasce negli Stati Uniti ok ma nasce tutta l'altra parte del del mondo e quindi poi dal 1950 in poi dagli Stati Uniti questo movimento inizia ad essere diffuso per tutto il mondo per tutti gli altri paesi del mondo in cui la chiesa avventista è presente qui in questa foto trovate un po' quelli che sono i i leader che ci sono stati a livello mondiale eh per quello che riguarda diciamo non la direzione del dipartimento giovani ma proprio il settore eh che riguarda i Pathfinder la nostra la nostra dal 1950 ad oggi vedete come cambiano anche le nazionalità a livello mondiale se passate da avere un responsabile canadese poi un americano brasiliano sudafricana australiano di nuovo americano fino ad arrivare poi a un europeo e adesso l'attuale l'attuale direttore viene dalla repubblica dominicana andiamo avanti e qualcuno probabilmente si sarà domandato come mai questo nome no da dove viene quindi questo nome eh Pathfinder ok perché come si è arrivati da società dei missionari volontari che poi anche in Italia poi vedremo dopo si chiamava così in Italia semplicemente missionari volontari se arrivate a eh Pathfinder forse questa qui non so se la conoscevate tutti questa 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 cosa non c'è nulla di sacro nel nome Pathfinder quindi qui forse qualcuno rimarrà deluso pensando che sia qualcosa collegato con la Bibbia o con qualunque altra cosa invece niente molto semplicemente questo Arthur Spaulding eh questo diciamo avventista che iniziava a curare iniziava a dirigere alcuni campi al sud della California durante uno dei suoi campi trovò la storia di un esploratore vero e proprio un personaggio eh così era stato anche un politico era un botanico che si chiamava Charles eh Fremonte questo signore qui che veniva soprannominato da eh diciamo la dalla gente come the Pathfinder no? L'esploratore da alcuni anzi anche the Great Pathfinder no? Allora lui questo nome piacque e lo adottò eh come eh nome per i programmi che venivano fatti con i ragazzi ok? E questo nome andò a sostituire negli anni quella che era la società dei missionari volontari vedete come questo non so quanti conoscevano forse anche chi da tanto tempo nell'Aisa forse non conosceva questa questa particolarità il nome non ha nulla a che vedere con eh quello che può essere alcuni principi biblici o o o altro non ha nulla a che vedere nemmeno con lo scautismo storico eh ma è un nome che viene fuori da questo da questo aneddoto no? Da questa da questa situazione vissuta eh vissuta a suo tempo ok? E in Italia in Italia come 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 siamo andati avanti no? Come si è sviluppato il tutto. Io ho individuato queste queste quattro tappe eh che vi presento giusto perché voi le abbiate in mente poi probabilmente vi ricorderete che eh ormai eh circa sei mesi fa abbiamo ricordato eh celebrato questi venticinque anni della nostra associazione ed era stato prodotto un video che comunque trovate eh online dove potete se avete piacere andarvi a ripercorrere abbiamo fatto una sorta di carrellata storica grazie anche a Stefano che aveva ricostruito un po' alcuni passaggi importanti quindi chi ha piacere di approfondire credo sia un video di una decina di minuti se non ricordo male che questo era anche un modo con delle immagini e con delle foto per ricordare alcune alcuni di questi passaggi quindi i quattro momenti storici da ricordare eh a mio avviso sono questi. Allora in Italia tutto comincia anche lì come vedete già nel 1952 come dicevo dopo gli anni cinquanta 1950 eh arrivò eh questo movimento nelle altre parti del mondo in Italia nel 52 e qui vi ho messo anche alcuni nomi che forse ad alcuni non diranno nulla ad altri invece diranno qualcosa con Sabatino, Bulcis, Visigalli e Visani che si sono avvicendati in questi anni alla direzione di questo movimento eh che c'era con con i giovani con i giovani avventisti e e da lì questi sono stati un po' i primi passi che si sono mossi in Italia all'interno della chiesa della chiesa avventista. Poi c'è una seconda tappa che è quella che va dal 79 all'89 che è quella che io ho chiamato da missionari volontari a esploratori e tizioni no? Mentre negli Stati Uniti si era passato da missionari volontari a Pathfinder noi passammo in Italia da missionari volontari a esploratori e tizioni e questo venne grazie all'operato di di Rizzo, Rolando forse quei sono i nomi che già avete sentito, di eh Giovanni Fantoni che in quegli anni coordinavano le attività per per la gioventù. Una terza tappa importante all'interno del nostro movimento è eh quella che va dal 1990 al 98 con la sotto la direzione di Corrado di Corrado Cozzi. E questo è il momento in cui da un semplice gruppo organizzato eh si diventa eh associazione. Ok? Ed è proprio in quest'anni in questi anni che viene poi costituito ufficialmente firmato come vedete sotto l'atto costitutivo ed era il 13 giugno del 1995. Dopodiché siccome diciamo abbiamo un po' di storia l'abbiamo fatta poi dal eh dal novantotto ad oggi eh diciamo che quindi dal novantanove fino fino ad ora abbiamo comunque portato avanti e sviluppato ancora di più quella che è la nostra associazione ehm con poi vedete qui con Beninica là è attualmente la mia la mia direzione no? Quello che era stato gettato, le basi che sono state gettate da da Corrado i primi i diciamo i primi documenti formali che si avevano come associazioni poi negli anni si sono sempre di più consolidati e e anche diciamo eh c'è stata anche di nuovo una riscrittura di alcune parti del diciamo del nostro movimento eh l'uniforme che è cambiata perché in un primo tempo magari chi non non era in Italia a quell'epoca non ricorderà che inizialmente la nostra uniforme era di colore azzurro e non era verde la nostra camicia e quindi sono stati anni in cui poi tutte queste cose sono state sono state riviste e e alcune cose proprio create perché non non esistevano. Andiamo avanti e arriviamo quindi a quella che è l'AISA quindi non vi annoio più con quello che riguarda la storia spero che queste date possano esservi utili per possono essere state utili per farvi un quadro della situazione. Arriviamo all'AISA che che cos'è? Perché qualcuno se qualcuno dovesse chiedervi che cos'è l'AISA. L'AISA è un'emanazione della chiesa che sia una ventisa del settimo giorno. Anche pomeriggio ho ricevuto una telefonata eh da parte di un collega che mi diceva ma l'AISA è una onlus no? Eh proprio questo pomeriggio ho detto no l'AISA non è non è una onlus. Noi non abbiamo nessun altro nessuno status ehm da diciamo come associazione se non quello di essere un'associazione legalmente riconosciuta. È uno status molto semplice ok? Non abbiamo non abbiamo altri altri status ma questa è l'AISA che è comunque un'emanazione della chiesa ventista quindi non è qualcosa che è nata per gli affari suono ma è una cosa che è nata e stata voluta dalla chiesa ventista. L'acronimo che può sembrare strano e allora dice ma forse tu ci vuoi prendere in giro. Anche l'acronimo oggi è sempre e l'ho voluto ricordare a posta perché oggi ancora spesso viene confuso. Di nuovo in settimana un'altra persona mi ha chiamato e mi ha scritto che è proprio l'associazione italiana scauta ventisti. No? Ecco noi la nostra associazione non è l'associazione italiana scauta ventisti ma è avventista che questo fa la differenza ok? Forse non tutti la colgono però un conto è dire che l'associazione è avventista perché è stata costituita dalla chiesa ventista e un conto è dire che gli scout sono avventisti perché noi sappiamo bene che i nostri scout non sono tutti avventisti e che la nostra associazione è un'associazione aperta a tutti ok? Quindi questo è ricordate adesso in avanti spero che questo sia chiaro non è avventista non è avventisti ma è avventista ok? Andiamo avanti perché penso che quello che possa racchiudere meglio quello che è l'AISA, quello che è la filosofia dell'AISA come abbiamo scritto nel titolo e quello che sono anche gli obiettivi dell'AISA sia la dichiarazione di missione. Ogni organizzazione a un certo punto si ferma e scrive la propria dichiarazione di missione. Noi come come associazione l'abbiamo fatto forse in tempi non sospetti. Oggi è molto di moda scrivere la propria mission no? O dichiarare la propria mission. Noi come AISA l'abbiamo fatta parecchio tempo fa ma secondo me ha un'attualità veramente veramente forte ok? Quindi l'AISA ve la leggo perché sono poche righe perché la missione deve essere racchiusa veramente in poco spazio, in poche battute. L'AISA è un'emanazione della chiesa che si è avventista il settimo giorno che mira a promuovere lo sviluppo armonioso, fisico, sociale, mentale e spirituale di bambini, bambine, di ragazzi e ragazze di età tra i 6 e i 16 anni. Dovremmo aggiornare questa dichiarazione di missione perché ormai da un pochino abbiamo accolto tra noi anche le gemme e quindi anche i più piccolini che adesso fanno parte anche della nostra associazione. Promuove un'esperienza personale con Cristo a tutti i livelli organizzativi, utilizza anche i metodi propri dello scautismo per esplorare la natura, praticare il servizio e vivere la testimonianza. Si prefigge di sviluppare negli individui l'autodisciplina e la capacità di assumersi delle responsabilità al fine di attuare la riconciliazione tra il creatore e le creature. Questa è la dichiarazione di missione, questa la trovate anche sui nostri documenti ufficiali e quindi qualcosa che volendo potete ripassare e condividere con i vostri animatori che magari non sono non sono presenti. Quali sono quindi gli obiettivi? Sono ben definiti e quando qualcuno dice no ma ma cosa dobbiamo fare noi? Anche nel fare perché se uno ha chiaro gli obiettivi sa anche come programmare le attività. Se non sono chiari gli obiettivi le attività che vengono programmate non non ci azzeccano nulla. Quindi gli obiettivi sono quelli di puntare a uno sviluppo armonioso. Quindi l'ASA ci tiene che tutte le sfere che riguardano un ragazzo e una ragazza siano affrontate, siano vissute e quindi ci deve essere sempre nella nostra programmazione qualcosa che abbia a che fare con il fisico, quindi con lo sviluppo della fisicità, qualcosa che abbia a che fare con la socialità, qualcosa che abbia a che fare proprio con lo sviluppo della mente e qualcosa che abbia a che fare con la spiritualità. Quindi quando vi troverete a buttare giù un programma spero che queste quattro parole chiave possano essere presenti nella vostra mente e nella vostra programmazione. Quindi se avete solo attività fisiche quella non è AISA. Se avrete solo nella vostra programmazione attività sociali, se voi fate bullying, pizzata, che voglio dire, qualunque altra attività di questo genere e fate solo quello, quello non è AISA, perché l'AISA prevede lo sviluppo e quindi nella sua programmazione bisogna tener conto di tutte queste quattro sfere, quella fisica, sociale, mentale e spirituale. Questo non solo nell'ottica di una programmazione annuale, ma anche all'interno del pomeriggio della riunione stessa. Quindi è vero che ci possono essere delle riunioni, delle attività che che hanno magari una maggioranza di attività o dedicano più tempo a uno di questi quattro aspetti, ma guai a fare le riunioni sempre in quel modo lì. Insomma una riunione che sia solamente parte spirituale, come la chiamiamo noi volgarmente, no? La parte spirituale e facciamo solo parte spirituale. Quella non può essere definita una riunione AISA, perché non va a coprire gli obiettivi che l'AISA si può. Quindi nella programmazione che fate a livello locale, sia annuale che nei singoli pomeriggi in cui vi incontrate, o nei weekend, nei raduni, ecco tenete conto di tutti questi questi quattro aspetti. Qual è altra, questo ve l'ho già riassunto, quindi l'assalto, c'è quest'altra frase nella dichiarazione di missione, no? Viene detto nella dichiarazione di missione che l'AISA utilizza anche i metodi propri dello scautismo, no? E questo anche, che qui vi ho sottolineato, ha un significato ben preciso, non è stato messo a caso, appunto perché una dichiarazione di missione è qualcosa di, che in poche righe deve dire quanto più possibile, mettere a fuoco alcune cose, ogni singola parola viene pensata e ragionata. Questo anche è molto significativo, no? Perché noi non facciamo solo, non utilizziamo solo il metodo di scout, noi facciamo anche, no? Lo scautismo, utilizziamo anche i metodi scout, non utilizziamo solo quelli, per questo abbiamo un programma vario, per questo ci differenziamo anche da altre associazioni scout che invece seguono pari pari quello che è il filone dello scautismo storico. Noi troviamo nello scautismo storico, quello fondato da Baden Powell, un grande appoggio, perché Baden Powell ha sviluppato nel suo sistema, nella sua organizzazione, veramente dei principi e delle cose in cui noi ci ritroviamo, che sposiamo e portiamo avanti. Ma non portiamo avanti solo ed esclusivamente quello, ok? Se andrete a incastrare le date che vi dicevo prima tra lo scautismo storico di Baden Powell e il nostro avventista, il movimento avventista, vi renderete conto che sembrava quasi che questi due movimenti siano andati per parecchio tempo in parallelo, ma non ci sono storicamente evidenze in cui questi due movimenti si siano incontrati, no? Da un certo punto in qualche documento, in qualche verbale, sia da una parte che dall'altra, sia venuto fuori che, che ne so, che un organizzatore o un animatore del movimento scautamentista abbia incontrato qualche pioniere del movimento scaut storico. Per carità, noi non c'eravamo, nessuno di noi c'era, quindi è chiaro che ci si potrebbe essere influenzato, è chiaro che le notizie, le attività e magari in una cittadina, in una realtà, in una nazione, ognuno poteva vedere cosa succedeva, cosa avveniva nel proprio paese, perché era stato organizzato un gruppo di ragazzi, ma non abbiamo evidenze storiche di una commissione tra questi due ambienti, no? Li vediamo, li vedete sempre camminare in parallelo, ok? E questo credo che sia una bella cosa, sia per il movimento storico, perché gli va riconosciuto tutto il merito a questo, ma Baden Powell di aver costituito veramente da zero un movimento a livello mondiale enorme, ok? Ma al tempo stesso anche il movimento scautamentista ha avuto una sua identità, è nato in una realtà che era completamente diversa da quella inglese in cui, per esempio, Baden Powell era vissuto. Un'altra frase importante della dichiarazione di missione è esplorare la natura, praticare il servizio e vivere la testimonianza, ok? Questi tre principi sembrano essere, no? Come ho scritto qui, l'applicazione di quello che Baden Powell aveva detto, no? In altre parole, con altre frasi. E quindi è quello che poi noi vediamo, e qui avrò questa parentesi, vediamo nel saluto scout, no? Ancora oggi mi capita, forse vi farà sorridere, di vedere persone sudare freddo quando gli si chiede, e anche i bambini, animatori e ragazzi, sudare freddo quando gli si chiede, ma cosa significa questo, no? E ho visto gente sudare freddo per questa cosa qui, no? E ho avuto persone che mi hanno detto il padre, il figlio e lo spirito santo, no? Per esempio. Insomma, e altre applicazioni abbastanza fantasiose. E invece no, e invece no, perché queste tre, quelle tre parole chiave diciamo prima, si ritrovano nel saluto scout, ok? E quindi abbiamo natura, servizio e testimonianza, quindi per favore non dite altro e insegnate questo ai vostri ragazzi. E poi abbiamo il pollice, il mignolo con il più grande che aiuta il più piccolo. Il saluto scout, questo piccola parentesi, nel mondo avventista, perché a volte mi è anche capitato di animatori che vengono da altre parti del mondo avventista e vede che in altre parti del mondo il saluto scout è diverso, anche all'interno del movimento scout avventista stesso. Ecco, ho fatto più volte una ricerca su questa cosa qui e non esiste né i documenti ufficiali del movimento a livello mondiale nostro una pagina che parli del saluto scout. Quindi ogni unione, ogni divisione, sapete poi noi adesso vedremo meglio questo aspetto qui tra un pochino, quindi poi ognuno, quindi ogni organizzazione a livello nazionale si è creato o per tradizione o per per volontà un proprio saluto. Quindi non c'è un saluto ufficialmente riconosciuto e valido per tutti gli scout avventisti a livello mondiale. Non esiste. Quindi non c'è il saluto giusto o il saluto sbagliato per gli scout avventisti, perché non ce n'è uno ufficiale. Quindi sono tutti giusti, se così vogliamo dire. Però questo saluto invece noi lo ritroviamo anche nel movimento scout storico, ok? Perché è una simbologia che ritroviamo. Perché dico movimento mondiale? Questi sono i numeri che poi dal 1950, questi sono i numeri di quest'anno, del 2020. Perdonate se è sfocata l'immagine, ma purtroppo questa era la qualità non mi andava sinceramente di ricopiare a mano tutti questi numeri qua. E quindi qua trovate, adesso non lo sforzatevi più di tanto, perché qui sulla sinistra trovate le varie divisioni, quindi le varie organizzazioni del mondo a livello avventista e poi avete il numero di quanti club, di tizzoni, di esploratori e anche di compagnoni e di giovani, in questo caso, quindi proprio tutte le fasce di età che copre la chiesa avventista e i rispettivi numeri. Io ho fatto un piccolo focus, così da non perdere la vista su questo file qua, con quello che interessa poi principalmente a noi, ok? Quindi alcuni numeri che ci interessano. A livello mondiale, il numero di tizzoni e di gemme, vedete qui, sono oltre 35.000 club con più di 1.300.000 tizzoni e gemme, ok? Perché io dico tizzoni e gemme? Perché negli Stati Uniti la fasce d'età in cui iniziano i tizzoni è simile a quella delle nostre gemme. A livello europeo, quindi nella nostra divisione, però perché anche l'Europa, noi all'interno della chiesa è divisa in due parti, ci sono 682 club di tizzoni e gemme e 6.882 membri. In Italia noi abbiamo tizzoni e gemme in 85 degli 86 club attivi che noi abbiamo, ok? E abbiamo 625 tra tizzoni e gemme, ok? Mentre gli esploratori a livello mondiale, vedete, ci sono 47.000 perché c'è questa distinzione a livello mondiale, a livello europeo tra i club di tizzoni e i club degli esploratori. Invece per noi quando diciamo club, per noi sono un tutt'uno, ok? Per questo vi ho fatto il distinguo sotto, poi in quanti club sono presenti i tizzoni e le gemme e in quanti sono presenti gli esploratori. A livello europeo abbiamo 821 club e più di 8.000 membri. In Italia abbiamo esploratori in 82 degli 86 club attivi e abbiamo 311 membri, ok? Qui faccio un piccolo focus. Non so se avete notato da questi numeri che mentre il trend a livello mondiale ed europeo nel passaggio, ok, da tizzoni e esploratori, grossomodo si mantiene, anzi c'è quasi un incremento, no? Se vogliamo dire, ma diciamo è stabile, ok? Quindi vedete che ci sono più club o comunque ci sono anche più esploratori, quindi non sono di meno. Nel nostro caso, invece, noi passiamo dall'avere 625 tra tizzoni e gemme e poi abbiamo 311 esploratori, no? Quindi abbiamo una criticità da questo punto di vista, no? Sembra quasi, e poi ovviamente voi a livello locale ovviamente ve ne accorgete sicuramente più di me, che non si riesce, come se non riusciamo a, tra virgolette, utilizzo questo termine, ok? Ma comprendiamoci, a trattenere, no? I tizzoni, tutti i tizzoni quelli degli esploratori, no? Gli esploratori sono quasi sempre meno dei tizzoni, ok? E quindi questa è una criticità che viviamo, no? Arrivata l'adolescenza c'è questa crisi e questa è la sfida più grande che noi abbiamo. Quindi sia a livello mondiale ed europeo, adesso questo è ovviamente un dato collettivo, non sembra esserci questa differenza, nel nostro piccolo, no? Nel nostro piccolo invece è abbastanza evidente, no? E di fronte a una cosa del genere ci sono sempre alcuni che mi chiedono, ma siamo sicuri che l'AISA funzioni, no? Siamo sicuri che oggi, per un adolescente di oggi, del 2020, questo movimento nato negli anni, eccetera, eccetera, sia ancora valido, funzioni e faccia a caso nostro. Non sarebbe meglio puntare su qualche altra attività, eccetera, eccetera? Allora, questa è una ragione che io ho cercato di buttare giù, che secondo me dà una spiegazione a questa domanda ed è quello per cui io sono personalmente convinto, no? È chiaro che nell'adolescenza, la fase dell'adolescenza è una fase delicata e so che su questo ci capiamo ed è anche una fase in cui i ragazzi e le ragazze vivono uno sviluppo molto, molto rapido. Qualcuno potrà dire a maggior ragione oggi che questo sviluppo è proprio, è veramente a livelli, a livelli veramente velocissimi, no? Ma se in questa fase, no? Se durante questa fase noi aggiungiamo azione, avventura, sfide, attività di gruppo e delle opportunità per sviluppare nuove attitudini e abilità, è chiaro che non è una formula matematica, quella che vi sto dicendo, ok? Ma è un metodo educativo, ok? Non è una forma matematica, non è che a uno corrisponde uno, perché poi è chiaro che le vite dei nostri, come quelle dei nostri ragazzi, hanno e poi prendono ovviamente direzioni diverse, ma sicuramente andare a riempire le vite di noi, dei nostri ragazzi con queste, con queste attività qua, è molto probabile che produrrà quindi crescita personale, spirito di squadra, senso di realtà e rispetto nei confronti degli altri di Dio. Quindi alla domanda, ma siamo sicuri che l'AIS, lo scoutismo oggi funziona, al di là dell'AIS, lo scoutismo in genere oggi funziona, sia il metodo migliore per educare o uno dei metodi migliori per educare i ragazzi? La mia risposta è sì o meglio. Se voi trovate, fate un attimino mente locale, a altri metodi educativi che vadano a coprire un po' tutti questi aspetti e che portino questi risultati in maniera così, come dire, completa, quindi non solo su un aspetto, no? O su due di questi aspetti, ma su tutta la sfera che riguarda l'educazione di un ragazzo, allora magari potrà competere, tra virgolette, con lo scoutismo. Io penso che ci sono pochi metodi educativi, anche oggi, anche moderni, che riescono a competere sul piano educativo con lo scoutismo. Perché lo scoutismo ha il suo punto di forza in due aspetti. Uno, che si rinnova costantemente, pur essendo un movimento antichissimo, ma si rinnova costantemente perché è proprio un movimento, no? Non è qualcosa di statico, ma è qualcosa che sta al passo con i tempi. Io ricordo, sicuramente ricorderete anche voi, che noi siamo passati dalle carte topografiche, no? Dei corsi di topografia, bussola, eccetera, eccetera, da fare anche negli ultimi anni corsi su GPS e altro, no? Non è che siamo rimasti, no? Noi siamo fedeli ai principi dello scopo. Noi diciamo che è sicuramente importante la bussola, che è sicuramente importante la carta, ma studiamo anche, approfondiamo e ci portiamo avanti anche con il GPS e con le altre cose, ok? Quindi è un movimento, lo scoutismo non è qualcosa di statico, ma è qualcosa che si sviluppa continuamente. E poi tocca e abbraccia tutto, abbraccia tutte le sfere della vita e di crescita di un ragazzo. E non tutti i metodi educativi puntano a tutti questi aspetti qua. Quindi personalmente ritengo, non so come nella vostra esperienza, ma penso che tutt'oggi, anche nel 2020, il metodo scout funzioni. Rapidamente questa è una mappa di quella che è l'organizzazione interna nostra, ok? Ad alcuni è nota, ad altri forse un po' meno, ma da qualche anno ormai non si chiama più Dipartimento GA o Dipartimento dei Giovani, ma si chiama Ministeri Adventisti per la Gioventù, che voi poi trovate abbreviato con MAG, ok? Quindi quando oggi chiamate ancora Dipartimento GA in realtà è errato, ok? Dovenderebbe dire Ministeri Adventisti per la Gioventù o MAG e non GA. Perché? Perché all'interno del MAG, quindi, c'è la sezione Junior, che è quella che noi in Italia chiamiamo AESA, ok? Che quindi prevede al suo interno le gemme, i tizoni ed esploratori. E poi c'è la sezione Senior, questo è anche da manuale di chiesa, ok? Per chi sa che cos'è il manuale di chiesa, cioè per il manuale che la Chiesa Adventista si è data come organizzazione. Nella sezione Senior ci sono i compagnoni e i giovani e qui trovate le fasce d'età che immagino conosciate. Quindi, ecco, proviamo anche ad abituarci a chiamare le cose con il nome che hanno adesso, così da poter riuscire veramente a fare un passo in avanti anche su questo. E quindi la grande famiglia dell'AESA come si compone? Si compone da un dipartimento che esiste a livello mondiale, che ha un suo direttore, ok? Che si trova negli Stati Uniti. Il pallino che vedete a fianco, il nome è il colore del cordoncino, scusate, il colore del cordoncino che indossa questa figura qui, ok? Quindi a livello mondiale c'è un direttore, poi c'è un direttore a livello europeo, quindi nel nostro caso nella nostra divisione, EUD è la SIA della nostra divisione, della nostra parte d'Europa all'interno della Chiesa Adventista. Poi c'è il direttore del MAG dell'Unione, ok? Della nostra UICA è l'abbreviazione per la nostra Unione. Poi ci sono i coordinatori di campo, poi ci sono i collaboratori di campo e fin qua queste figure sono tutti dei capi guida, ok? E poi abbiamo gli animatori principali, con il loro cordoncino anche qui, abbiamo poi l'animatore dei tizzoni, ok? E l'animatore degli esploratori, ok? Non ho inserito qui la parte che riguarda le gemme, perché voi sapete che le gemme, dal punto di vista organizzativo, differiscono da questa organizzazione, perché le gemme hanno un coordinatore, come animatore, che coordina il gruppo dei genitori di questi bambini, perché il programma delle gemme, più di quello dei tizzoni, funge da supporto all'educazione che i genitori vivono con i propri figli, ok? I gali dei tizzoni, qui penso di andare veloce, è giusto come promemoria, però so che alcuni di voi sono magari anche, tra di noi ci sono anche degli animatori che possono essere alle prime armi. Con i tizzoni abbiamo le scintille, ok? Così le chiamiamo, prima scintilla, seconda scintilla, terza scintilla e quarta scintilla, con le rispettive fasce, diciamo, fasce d'età, e poi abbiamo i gali degli esploratori, che sono aiuto, messaggero, esploratore, assistente guida, guida e capoguida. I più attenti diranno, no ma aspetta Ignazio, perché tu qualche tempo fa ci hai presentato delle novità, che fine hanno fatto quelle novità? Ecco, le novità non sono finite, perché ricordate bene che noi abbiamo votato da poco, siamo in attesa di poter deliberare questi nuovi curriculum, quindi un nuovo grado per gli esploratori, che è il grado di viaggiatore, e il grado di, è il master tizzoni, che è un grado per tizzoni, per andare a colmare quelle due età che mancano, quella degli undici anni e dei quindici anni all'interno del percorso scout. Quindi ci sono questi due gradi da aggiungere a quelli precedenti. Non li trovate in questo momento da nessun'altra parte, perché non abbiamo ancora il via libera per rilasciare le schede di questi due gradi, ok? Stiamo aspettando di avere il via libera per questo. I tizzoni hanno i loro distintivi, le loro specializzazioni, che sono quelle triangolari, ce ne sono oltre 80 e sono divise in 5 categorie, e qui mi sono fatto anche io la domanda che vi facevo prima. Mentre alcuni mi domandano, ma l'ISA o lo autismo in genere è ancora valido oggi, qualcuno si potrà domandare anche che senso ha fare i distintivi o i gradi oggi, ok? Cioè, ok, posso capire i giochi, i giochi di squadra, l'avventura, le escursioni, ma le specializzazioni, i gradi, le classi progressive, come le chiamiamo noi. Che senso ha farle, no? Allora vi ho riparato queste citazioni qui. Che senso possono avere? Hanno il senso di poter assistere i genitori, per esempio, nel rendere lo sviluppo dei propri figli più ricco e significativo. Forse noi, molti di noi, danno per scontato che un genitore abbia tutti gli strumenti necessari, a volte, per educare i propri figli, ma non è sempre così, no? Ha il ruolo educativo che hanno i genitori, che sicuramente è in primis, è la cosa che più conta, è la cosa che sicuramente ha l'importanza assoluta, a questo ruolo educativo si aggiunge poi la scuola, per esempio. Non è che tutti i genitori hanno gli strumenti per insegnare tutto ai propri figli e quindi si ricorre alla scuola. C'è la chiesa, per esempio, che ha anche una funzione educativa, no? Che va a supportare i genitori da un punto di vista spirituale, per esempio. Ecco, l'AISA rientra tra queste cose, ok? E quindi può assistere i genitori e aiutarli a rendere anche più ricco quello che è lo sviluppo dei propri figli, perché comunque vengono proposte un sacco di attività così varie e diverse, no? Aiutarli a scoprire le loro abilità e imparare ad usarli per il proprio beneficio e a beneficio degli altri. Questa è un'altra motivazione per cui le specializzazioni possono avere ancora oggi un senso, no? Scoprire le proprie abilità. Io non so quanti di voi hanno fatto l'esperienza nel fare qualche distintivo, no? Di scoprire qualcosa che erano poi, che poi è diventato una passione o un hobby. Alcuni di voi che vedo, conosco alcuni dei vostri hobby, penso che poi sono stati anche oltremodo confermati nel percorso scout. Altre volte invece mi avete capito mai che eravate negati su quella cosa lì, no? È stato utile comunque, perché anche quello educativo non è educativo solo quello che ha una fascia che non finisce mai, no? A volte è educativo anche capire e scoprire che io sono negato, ho conosciuto un sacco di animatori, ma io sono negato con i nodi, no? O io non ho proprio completamente il senso dell'orientamento, no? Anche qui capire i propri limiti, gestirli, affrontarli, no? Fa parte del processo educativo. L'esperizzazione degli esploratori, qui il poster è molto più grande, siamo a oltre 400 specializzazioni che sono divise in nove categorie. E anche qui, perché gli esploratori? Perché ha un adolescente, no? Ancora insistere con queste patacche da mettere sulla camicia, no? Che senso ha tutto ciò, no? E ho trovato questa situazione che vi ho riportato. Insegnere ai Pathfinders specifiche abilità e hobby renderà le loro vite più, scusate qui c'è un refuso, più soddisfacenti e li aiuterà a occupare il loro tempo in maniera proficua, ok? Quindi li aiuterà a occupare il loro tempo in maniera proficua e renderà le loro vite più soddisfacenti. Non so se vi è mai capitato di vedere gli adolescenti, a me spesso capita di andare a trovare qualche famiglia o qualcuno e vedere come degli adolescenti e dice guarda mio figlio, un genitore dice mio figlio non c'è nulla che lo entusiasmi, no? Viviamo anche nell'epoca in cui alcune delle attività che i nostri figli possono fare senza demonizzare nulla, ma penso che comunque l'utilizzo smodato dei videogiochi della connettività o di quello che in qualche modo va tutto a creare quello che poi è il proprio universo, no? Che quindi non ha nessun elemento di socialità che porta invece a vivere isolati o da soli determinati aspetti della vita e della crescita. Ecco, penso che questo progetto educativo, le specializzazioni anche per un adolescente abbiano veramente, gli possono aprire un mondo, no? Se ci si crede, se vengono ovviamente poi trasmesse e insegnate nei dovuti modi. Ci sono i master, su questo non mi soffermo, quindi gruppi di distintivi, aree di distintivi, categorie di distintivi che vengono in qualche modo raggruppate e danno, si ha la possibilità di conseguire questi master, ok? Questi fanno parte sempre del percorso educativo e poi cerco di andare veloce su questa parte, che poi è la parte, la parte finale, quella che riguarda la simbologia, ok? Quella che vi ho messo qui è l'emblema, il logo, no? Dei Pathfinder, ok? E vi chiedo di non confondere mai quello che è il logo dell'AISA, dell'associazione AISA, con il logo, con l'emblema dei Pathfinder, quindi con quello che poi noi in italiano chiamiamo la nostra promessa, ok? La promessa è quello che adesso stiamo per vedere, il logo, quello che avete visto all'inizio, no? In altre slide, quello per intenderci con il giglio, quello è il logo dell'associazione. Quindi in Italia noi abbiamo un logo per l'associazione che non è il logo della promessa, che non è l'emblema della famiglia scauta avventista a livello mondiale. Adesso capirete anche perché. Quindi che simboli abbiamo nella promessa? Abbiamo un triangolo, alcuni mi hanno chiesto più volte questa cosa qui perché tempo fa l'avevo spiegata. Abbiamo un triangolo al contrario, abbiamo uno scudo, una spada e una scritta. Anche la scritta è importante, non è un caso. Il triangolo al contrario ha un significato ben preciso, no? Il triangolo al contrario non è altro che rappresenta quello che non è la promessa, no? Padre, figlio e Spirito Santo. Ecco, ma nel triangolo, nella scelta del triangolo come simbolo c'è un richiamo alla Trinità, sicuramente, che è un valore, è un principio cristiano, ma anche a quei tre aspetti che abbiamo menzionato prima, cioè l'aspetto mentale, fisico e spirituale. E il fatto che sia al contrario sta a significare il fatto che gli insegnamenti di Gesù, a cui noi ci ispiriamo, sono contrari più delle volte a quelle del mondo, no? Perché noi crediamo in un salvatore che è venuto a servire, no? E questa cosa qui sicuramente è una verità sconvolgente per tanti. La scritta ha il suo perché, vi dicevo perché sta a significare che quella cosa lì appartiene a un movimento e richiama proprio l'organizzazione a livello mondiale, quindi come dire, come se fosse il cognome, ok? A cui deriviamo. La spada ovviamente ha una simbologia forse da un punto di vista biblico molto più diretta, perché la spada rappresenta la Bibbia e quindi è sicuramente un elemento più, ci sono parecchi testi, qui viene messo uno che nella simbologia biblica richiama appunto la spada. Abbiamo lo scudo, anche lì sempre altra simbologia, tratta dalla Bibbia che è la protezione, rappresenta un po' la protezione, la protezione che Dio ha promesso di offrire al suo popolo e penso che in questo periodo della protezione di Dio ne stiamo godendo e sicuramente ne abbiamo sempre più bisogno. I colori, anche i colori di questo emblema hanno un so perché, il rosso, il giallo oro che troviamo nelle scritte nei bordi, lo scudo che è bianco e la spada che è blu. Ogni colore ha il suo significato preciso. Cosa significano questi colori? Il rosso richiama il sacrificio di Cristo, ok? Quindi questo è quello che dovrebbe richiamare alla mente, per questo non è un rosso vero, ma è un rosso Ferrari per dire, no? Ma è una tonalità di rosso particolare. Poi abbiamo l'oro che richiama l'eccellenza, ok? Che è quello a cui uno scout, ma ripeto, sempre nell'ottica di quello che è la buona educazione scout, quella a cui si dovrebbe sempre puntare, no? E gli obiettivi che si dovrebbe porre anche un club stesso dovrebbero essere quelli sempre elevati e ispirarsi a principi anche elevati. Poi abbiamo il blu che richiama la purezza, ok? Anche questo viene preso dalla Bibbia. E abbiamo poi, scusate, ho saltato. Quindi sacrificio, eccellenza, il bianco, scusate, era la purezza, e il blu che richiama la lealtà, vi dicevo, no? Questa è un'altra simbologia che viene presa sempre dalla Bibbia, no? La lealtà spesso ai principi, no? Oltre agli insegnamenti di Gesù. E qui veniamo alla nostra promessa. Poi diciamo, ma perché ci hai fatto vedere quella, se poi quella che abbiamo attaccato sulle nostre camicie è diversa, no? Perché voi vi ricordate che la nostra promessa è così. Ritorna? Così è la nostra promessa, ma se guardate attentamente, tra questa promessa e quindi questo emblema e quello che avete visto prima, non cambia quasi nulla. Nel senso, graficamente cambia qualcosa, perché non abbiamo più che cosa? La spada, ma abbiamo che cosa? Una Bibbia, e la spada prima rappresentava la Bibbia, insieme a una fiaccola, e abbiamo comunque lo scudo e tutto il resto. In Italia, e non solo in Italia, in altre parti dell'Europa, il movimento scout avventista ha sostituito con altre immagini grafiche che richiama lo stesso identico simbolo, la spada con, per esempio, in questo caso, nel nostro caso, una fiaccola con un libro aperto alla Bibbia. Anzi, un riferimento forse un pochettino più diretto, no? Se vogliamo. Perché mentre la spada, io devo capire, no? Nella Bibbia cosa significa la spada, no? Non è sempre diretta l'associazione. Penso che una fiaccola con un libro aperto sia forse, anzi, un pochettino più facile da individuare. Ma perché abbiamo potuto fare questo? Poi noi abbiamo creato queste tre promesse che sono identiche, quello che cambia è solamente lo sfondo per ogni, sotto ogni scritta, Pathfinder, che abbiamo voluto mantenere, quindi in rosso, con lo sfondo in rosso per i tizzoni, con lo sfondo in giallo per gli esploratori, con lo sfondo in blu per gli animatori. Perché è diverso? E qui arrivo alla conclusione. Perché è diverso? Perché noi vediamo questo all'interno del movimento scout aventista, poi vediamo questo, poi vediamo questo, no? E questo è un club che è qui presente, almeno qualche tempo fa, e poi perché vediamo questo, no? Come mai questa varietà, no? Perché è così, c'è un movimento che ha gli stessi principi, gli stessi valori, le stesse cose. Poi ha questa diversità al suo interno. Vi faccio vedere un'altra foto che è presa dall'ultimo campore, no? Che abbiamo vissuto in Portogallo. Queste sono le uniformi, non so chi di voi ha avuto mai, non tutti hanno avuto la possibilità di girare, uscire al di fuori dell'Italia o partecipare a un campore. Queste sono le uniformi presenti nella nostra parte dell'Europa, ok? Vedete come sono tutte diverse, non ce ne sono forse due uguali, no? C'è anche la nostra, se vedete i nostri due modelli che abbiamo messo qui per questa foto, no? Qui c'è l'uniforme della Francia, c'è l'uniforme della Romania, della Spagna, della Germania, della Svizzera, della parte, diciamo, sia tedesca che anche francese e italiana, c'è il Portogallo, c'è l'Austria, c'è un'altra parte sempre della Germania, c'è la Francia, c'è il Belgio, vedete, sono tutte diverse, sono tutte diverse, la Repubblica cieca e altre, no? Sono tutte diverse. Perché? Perché ci possiamo permettere questa cosa qui, no? E qui c'è una domanda che ha spesso detto che viene fatta, ah, ma qui in Italia è tutto diverso, non si capisce niente, poi uno va al Campore in Europa e dice, ma qui non si capisce niente, mentre quando io vado ad un Campore negli Stati Uniti, vado in un Campore in Sud America, invece sono tutti uguali. A parte che non è vero che si è sempre tutti uguali, ma sveliamo l'arcano, no? Qui non ve l'ho tradotto, perdonatemi, l'ho lasciato in inglese, queste citazioni che vengono dal manuale prodotto dall'organizzazione mondiale che abbiamo a livello avventista, la nostra General Conference, dice che sono le varie divisioni del mondo che vanno a determinare un po' quelle che sono le regole e alcune cose specifiche, no? Poi del movimento scout, ok? E che per esempio, tra queste cose viene detto che l'uniforme stessa, per esempio, viene determinata da ogni divisione, ok? Quindi ogni divisione può permettere ad ognuno, ogni singola persona, ma ad ogni organizzazione nazionale, di avere una propria uniforme, diversa dall'organizzazione, da quella mondiale. Quindi non c'è un uniforme giusta e uno sbagliato, non è che l'uniforme giusta è quella con la camicia bianca, azzurro, verde, eccetera. Sono, ripeto, tutto è giusto. Noi abbiamo questa diversità che la riteniamo un valore veramente prezioso. Perché viene adottato questo principio? Perché qui, per esempio, viene menzionato che non tutte, per esempio, le parti del mondo hanno le stesse norme e condizioni economiche, per esempio, no? E quindi forzare qualcuno a produrre del materiale che sia fatto in un certo modo, quando in realtà in quella parte del mondo non possono nemmeno permettersi di produrre quel materiale o quelle stoffe o quel coloro o quant'altro, complicherebbe le cose, complicherebbe le cose, no? Mentre quindi, dice qui, l'uniforme può essere diversa in varie parti del mondo, quindi questo viene e ammesso dalla nostra organizzazione a livello mondiale, quello che non può essere cambiato sono invece l'emblema, nel senso, come ci siamo detti prima, nel senso la posizione, no? Di quello che noi andiamo a mettere sull'uniforme. Non è che decidiamo noi dove mettere le cose. Quelle cose io posso avere una camicia di colore diverso, ma posso andare poi, devo andare a mettere le varie cose sulla camicia in una posizione ben precisa. Ma comunque, viene detto in conclusione di questo documento, le unioni, le varie organizzazioni possono ammettere delle eccezioni purché gli venga dato il permesso dall'organizzazione mondiale, ok? Quindi il fatto che noi abbiamo la camicia verde non è un mistero, ok? Non è una cosa di cui vergognarsi, ok? Il fatto che noi abbiamo i nostri pali di verde che non sono, o che non abbiamo la gonna e abbiamo i jeans, eccetera, eccetera, non dobbiamo vergognarci, no? E non è una cosa che abbiamo, non è una furbata, non è una cosa che abbiamo fatto di testa nostra, sono delle scelte che nel corso proprio della storia del nostro movimento in Italia che sono state fatte. E tutte queste decisioni, tutte queste scelte sono state confermate e autorizzate sia dalla nostra divisione, quindi dall'organizzazione a livello europeo, che da quella mondiale. Quindi noi non possiamo, non è che un bel giorno ci alziamo e facciamo quello che vogliamo, no? Tutto quello che noi abbiamo nella nostra uniforme rispetta, no? Quelle che sono le regole mondiali che si è dato il movimento scout avventista e quello che è eccezionale per certi versi è stato comunque autorizzato dall'organizzazione, ok? Quindi non c'è nulla di sbagliato e soprattutto non c'è una vera uniforme e una falsa, una giusta e una sbagliata. Giusto per farvi vedere ultime slide, il nostro motto, che voi guardate, e qui c'è in varie lingue, il nostro impegno sono identici a livello mondiale. Queste sono poi le cose che contano. La nostra legge sono, che sia in inglese, in italiano, in spagnolo, eccetera, cambia. Ci sono delle leggere differenze che sono dettate anche dalla cultura sempre, ok? Ma ripeto, sono sempre autorizzate, non sono mai qualcosa che hanno stravolto completamente tutti. È un ultimo accenno e chiudo perché questa è una tendenza che spesso si ha al militarismo. Questo l'ho voluto aggiungere perché spesso e volentieri quelli che a volte amano in maniera, come dire, spassionata allo scavotismo, magari non in Italia, non lo so, però a volte ci potrebbe essere anche questa tendenza, ossia quella di arrivare a considerare l'uniforme non col principio educativo che noi gli diamo, cioè quello di rendere tutti uguali, di non creare differenze gli uni con gli altri, ma quello di paragonarsi a dei militari, no? E quindi vestirsi e conciarsi quasi da militari, no? Alcuni mi hanno chiesto, provenendo da altri paesi, perché per esempio in Italia non facciamo corsi di marcia, no? Di marcia non quella della maratona o quella, no? Che si fa le olimpiadi, ma di marcia quella dove ci sono le cosiddette formazioni, no? Dove determinate istruzioni corrispondono poi a determinati movimenti che la pattuglia, il proprio gruppo fa, ecco, noi siamo, abbiamo reputato tutto ciò secondo quella che è la nostra cultura in Italia e in Europa, delle cose che andrebbero a, nel farle pubblicamente, a creare più che empatia, no? Ma piuttosto separazione, no? Perché in Europa richiamano molto il militarismo, richiamano molto il concetto di guerra, di militare, no? Ed è qualcosa che abbiamo voluto eliminare, così abbiamo eliminato la spada per cercare di dare un'immagine sicuramente più pacifica di quello che è il messaggio del movimento scout. Io mi fermo qui su questo, è stata una maratona anche per me e spero che, eh, questa carrellata, no? Eh, di informazioni, spero, eh, non solo di informazioni, possano esservi utili per, eh, il servizio che fate con, con i vostri ragazzi, per quello che fate con, nei vostri, nei vostri club.